e buona prima ragazzi sono tecnicone del manager sempre sono con questo video sempre su tool manager anche quest'oggi andremo ad analizzare una tattica che ha funzionato molto bene all'interno di fm22 la tattica in questione è un 442 chiamato 442 zulu sul sito di fmscout e sono andato a testarlo con il milan perché secondo me era la squadra che poteva farlo rendere al meglio delle potenzialità come sempre la prima cosa che andiamo a vedere in ogni tag di test sono le statistiche dei calciatori dove ci dice che il capocannonieri della squadra sono stati sia Giroud che Leao con entrambi 29 gol questa è una tattica dove fa rendere al meglio gli attaccanti nel senso che avendo una doppia punta cerca di distribuirli in maniera omogenea a entrambe le due punte tant'è che se possiamo vedere Giroud in 34 presenza titolare e 2 da subentrata ha fatto 29 gol e 9 assist con un xg pari a 25,64 mentre Leao su 32 presenza titolare e 5 la subentrata ha fatto 29 gol e 8 assist con un xg di 21,21 gli altri due attaccanti della rosa ovviamente sono stati Ivra che in 18 presenza titolare e 9 da subentrata ha fatto 17 gol e 2 assist con un xg di 10,36 e Ante Rebic con 20 presenza titolare e 7 da subentrata ha fatto 12 gol e 7 assist con un xg di 11,78 quindi possiamo già vedere che con loro abbiamo circa una settantina di gol in pratica con gli attaccanti chi ha ottenuto il voto migliore più alto è Rafa Leao con 7,52 Brian Diaz con 18 assist risulta il calciatore con il maggior numero di assist eseguiti vi mostro anche le sue statistiche 32 presenza titolare e 8 da subentrata ha fatto 6 gol e 18 assist chi ha ottenuto la migliore percentuale di passaggi completati è Matteo Gabbia con il 98% Rafa Leao è stato eletto più volte 1 partita con 8 premi vinti De Kettler ha ottenuto il maggior numero di ammunizioni pari a 13 mentre Tomori, Tonali, Adli e De Kettler hanno ottenuto un'espulsione per quanto riguarda la classifica vinciamo il campionato con la bellezza di 99 punti quindi su 38 parite giocate abbiamo vinto 32 partite, ne abbiamo pareggiate 3 e ne abbiamo perse 3 facendo bene 114 gol quindi siamo nettamente il miglior attacco subendo 32 reti quindi non siamo per nulla la miglior difesa perché davanti a noi ci sono Inter, Lazio e Atalanta però comunque segnando tanto si può anche concedere qualche gol in più anche se poi si deve trovare la giusta quadra per quanto riguarda le altre competizioni in Champions siamo usciti in semifinale contro il Liverpool mentre in Coppa Italia siamo usciti ai quarti di finale con la Lazio parlando del modulo in questione abbiamo come già anticipato un 4-4-2 in porta abbiamo un portiere libero con i compiti difensivi che ha come istruzione quella di correre meno rischi e fare contrasti più duri i due terzini sono due fluidificanti con i compiti di supporto ovviamente avendo davanti un'ala non sono per nulla un fan di questo ruolo in questione perché comunque il fluidificante tende ad avanzare per tutta la linea di fondo fino a calpestare bene o male il calcio d'angolo che è la stessa cosa che fa sostanzialmente l'ala quindi c'è il rischio che i due calciatori, quindi ala e terzino, si calpessino i piedi comunque chi ha creato la tattica ha pensato di fare ciò il fluidificante di destra ha come istruzione quella di crossare dalla linea di fondo tirare di meno, giocare più stretto, fare meno contrasti duri e marcare stretto il fluidificante di sinistra ha come istruzione quella di crossare dalla linea di fondo dribbolare di più, tirare di meno, giocare più stretto, fare meno contrasti duri e marcare stretto centralmente abbiamo due difensori che impostano con i compiti difensivi entrambi hanno come istruzione quella di fare passaggi più corti i due esterni di centrocampo sono due ali con i compiti d'attacco entrambi con le stesse istruzioni, ovvero tirare di meno, fare più pressing, fare contrasti più duri e marcatura stretta in mezzo al campo abbiamo un regista arretrato con i compiti di supporto che ha come istruzione quella di fare passaggi corti, dribbolare di più, contrasti più duri e marcatura stretta il centrocampista a supporto del regista arretrato è una mezzala con i compiti di supporto vi ho già ampiamente detto l'anno scorso come non sono un fan della mezzala in un centrocampo a due specie se è una mezzala di supporto perché funziona molto meglio la mezzala con i compiti d'attacco non sono un fan per il semplice fatto che la mezzala è quel calciatore che tende a staccarsi andare a inserirsi e prenderla di testa o comunque fare densità in mezzo all'area di rigore avversaria quindi già in un centrocampo a due se se ne stacca uno rimaniamo con uno solo e non abbiamo per nulla equilibrio questo è anche il motivo per il quale prendiamo anche un po' troppi gol là davanti abbiamo doppio centravanti che è una dinamica che l'anno scorso funzionava molto bene quest'anno funziona un po' meno bene nel senso che i moduli che girano meglio sono quelli con una sola punta e non due però si può fare anche con doppia punta senza alcun problema comunque le istruzioni che ha il centravanti di sinistra sono quelle di fare passaggi diretti correre meno rischi e fare più pressing le istruzioni date al centravanti di destra sono quelle di fare passaggi corti correre meno rischi, tirare di meno, libertà di movimento, contrasti più duri e marcatura stretta la mentalità è offensiva, in fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco stretta si gioca la palla negli spazi partendo tra la difesa e cercando le sovrapposizioni sulle fasce lo stile dei passaggi ovviamente è più corto, il ritmo di gioco è più alto si fanno cross misti e si affronta la difesa palla al piede in fase di transizione abbiamo contropiede e ritornare quindi i calciatori devono tornare e difendere dietro la linea del pallone senza quindi pressare troppo in fase di non possesso abbiamo un'aliena di pressing molto più alta con un'aliena difensiva standard si fa il fuorigioco, l'ampiezza difensiva è stretta anche se su fm funziona meglio quella standard quest'anno si marca più stretti, si fa pressing estremo si impediscono i passaggi corrido portiere si fanno contrasti aggressivi la disposizione in campo è la seguente ovviamente siamo la squadra di sinistra possiamo vedere che il terzino fluidificante di sinistra che è Teo Hernandez rimane più alto rispetto al terzino che sta sulla fascia destra che è Serginio Dest anche perché poi Teo è un calciatore che ha molta più spinta quindi già lì si tende a rompere la simmetria difensiva così come il difensore centrale di sinistra rimane un po' più alto rispetto al difensore centrale di destra ciò ha un senso logico perché il regista retrato è il calciatore che rimane più basso tra i due di centrocampo di conseguenza il difensore centrale di destra tende ad abbassarsi per mantenere bene o male lo stesso distanza che hanno poi la mezzala che si stack con il difensore centrale di sinistra si nota molto bene quello che vi dicevo prima nel senso che i calciatori sulle fasce si calpessano i piedi perché se vedete Messias che gioca come ala deve andare in avanti e crossare allo stesso tempo Teo Hernandez è sulla stessa linea e quindi rischia di andare addosso al calciatore quindi dovrebbe allargarsi o comunque Messias dovrebbe accentrarsi per lasciare spazio alla sua posizione di Teo stessa cosa sulla fascia destra nel senso che Brahim essendo più un centrocampista rispetto a una vera e propria ala tende a rimanere un po' più centrale nel campo e già questo permette più al terzino destro di fare sovrapposizioni sensate là davanti abbiamo il doppio centro avanti che ovviamente deve alternarsi tra attacco della profondità e comunque il giocatore che rimane un po' più dietro a fare un pressing per impedire che i centrali facciano ripartire la squadra avversaria comunque è una squadra che come vedete rimane molto compatta lateralmente perché rimane molto stretta però per vie centrali ci sono un po' troppi buchi andando ad analizzare il calendario possiamo vedere che ad agosto la prima di campionato contro la Juve è stata pareggiata mentre la seconda di campionato è stata vinta per benessere zero contro la Samp a settembre vinte tutte tranne il pareggio contro il Verona per 4 a 4 a ottombre c'è il crollo del modulo tant'è che subiamo tre sconfitte un pareggio e facciamo solo due vittorie a novembre le vinciamo tutte tranne una sconfitta a dicembre così come a gennaio vinte tutte a febbraio vinte tutte tranne due sconfitte a marzo vinte tutte tranne la sconfitta in Champions contro il Porto che però ci ha permesso di andare avanti ugualmente ad aprile vinte tutte tranne il pareggio in Champions contro il Pesve mentre a maggio vinte tutte tranne la sconfitta contro il Liverpool per quanto riguarda la Coppa Italia c'è poco da analizzare perché usciamo praticamente subito nel senso che superiamo il Verona al terzo turno poi ai quarti di finale perdiamo contro Lazio e siamo già usciti per quanto riguarda la Champions si può vedere che il girone è formato da Sporting, Atletico e Marsiglia noi passiamo per secondi con gli stessi punti dello Sporting quindi 12 vincendo quattro partite e perdendo ne due 13 gol fatti e 8 subiti con una differenza reti di 5 nonostante passiamo per secondi riusciamo ad avere un cammino agevole nel senso che troviamo il Porto e lo superiamo ai calci di rigori dopo un 4-4 complessivo tra andata e ritorno ai quarti di finale superiamo il Pesve per 4-3 complessivo mentre in semifinale usciamo per un 4-3 complessivo contro il Liverpool bastiamo a vedere un po' di lights come ad esempio il 4-3 che ci ha rifilato il Porto chi passa in vantaggio è il Porto con Pepe che la scarica a Tariemi lancio in profondità per Otavio che sfrutta così i buchi difensivi lasciati dai nostri cacciatori e trova l'1-0 il pareggio arriva nei minuti finali del primo tempo con lancio in profondità per Diteo per Messias che trova un'ottima diagonale poi il secondo gol nostro arriva da una dinamica che funziona molto bene su FM22 ovvero lancio lungo del portiere e l'attaccante che va a superare la linea difensiva poi c'è il pareggio del Porto con un colpo di testa Evan Nilsson sul cross di Galeno poi Otavio ancora da colpo di testa fa segnare Gruic poi Otavio sulla fascia la scarica a Galeno Gruic calcia molto bene e va a segnare l'ultimo gol del Porto poi noi la portiamo ai calci di rigore al 93esimo con Kier che va a segnare di testa da calcio d'angolo poi i rigori penso che non vi possano interessare quindi evitiamo di vederli vi mostro inoltre il 5-2 rifilato al Torino così vediamo altri gol fatti e altri subiti a passare in vantaggio siamo noi con Teo Hernandez che va tutto sulla linea di fondo cross in mezzo Giroud la incorna perfettamente poi troviamo subito il secondo gol della parita con Brahim Dias lancio in profondità Giroud ancora una volta si fa trovare pronto a segnare terzo gol da palla inattiva con Kier che la colpisce benissimo di testa poi arriva la reazione del Torino da palla inattiva con gol di Zima ma poi ci siamo ancora noi a segnare un altro gol con Giroud in profondità per Ibra ultimo gol arriva dalla fascia di destra con Brahim Dias che difende la palla la mette a rimorchio De Ketteler da buona mezzala si inserisce e trova un grandissimo tiro l'ultimo gol del Torino arriva dalla fascia con Sissoko in mezzo Miranchuk va a sfruttare ancora una volta lo spazio lasciato dai difensori vi mostro infine il 3-2 contro il Napoli così vediamo ancora qualche gol subito e qualche gol fatto passiamo in vantaggio noi con Benasser che va ancora una volta sulla fascia di sinistra cross in mezzo e Rebic va a segnare il gol poi arriva la reazione del Napoli da palla inattiva ancora una volta Zelinski questa volta segna poi Teo Hernandez sulla fascia di sinistra Ibra la riscarica Teo cross in mezzo Brahim fa la sponda per Ante Rebic il terzo gol lo troviamo a 10 dalla fine con Ibra che lancia in profondità Teo e va sul palo più vicino a superare il portiere avversario il Napoli prova a riprendere in mano la partita con il gol di Raspadori su un'imbucata clamorosa della difesa però non basta per arrivare al pareggio con Questia Light si può evincere che è una squadra che tende a segnare molto spesso da cross sulle fasce quindi andiamo a sfruttare i centimetri dei nostri attaccanti o comunque delle nostre mezziali di contro è che comunque è una squadra che come vi ho già mostrato con l'occupazione del campo tende a lasciare dei buchi eccessivi soprattutto per vie centrali che gli avversari riescono a sfruttare molto bene per andare a farci male detto ciò questo era il video sul 4-4-2 Zulu io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like commentate, condividete noi ci vediamo nel prossimo video non mette lei bella regà ciao 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 ciao